Good morning Milano, buongiorno a tutti, oggi che giorno è? Lunedì, lunedì 23 settembre, inizia una settimana qui su Crystal Radio, lei inizia così alle 7 e 10 minuti in diretta con Good Morning Milano. Questa mattina non sono solo perché c'è troppe cose di cui parlare e di cui non capisco niente soprattutto e quindi ho gli aiuti da casa, no anzi ho gli aiuti in studio, li vuoi che qui? L'ho pensato anche io a dire. La sentite Silvia Gatti, benvenuta Silvia. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Milano, dire passavo di qua, ho citofonato. Di aiuto da casa, non era facile. Tigre contro tigre. No, quello non ci provo neanche, quello non ci provo neanche. L'aiuto in studio invece di Silvia Gatti perché dopo capiremo invece quale sarà il tema che in realtà, oh, venerdì sembrava essere un brasso di quello, oggi non ne parla già più nessuno. No, no, no. Ma noi lo ritorniamo su, parliamo di, come si chiama? Dissing? Dissing, sì, siamo in ritardo, ma in ritardo con, diciamo, stile. Approfondimento. Approfondimento culturale. Grazie direttore per avermi reintrodotta, mi sono ripresentata come, si suol dire, come le cucurbitacee, la peperonata della nonna di due anni prima. Eccomi qui sporadicamente, diciamolo subito, verrò sporadicamente. Quando ho bisogno dell'aiuto da casa, appunto, io ti chiamo perché io su sta storia qui non ci ho capito niente. Ma posso portarle anche ospiti di spessore e livello, come facevamo prima dell'estate. Ricordiamo una cosa, che l'estate sta finendo in questi giorni, anzi è finita proprio oggi, oggi in realtà è l'ultimo giorno e quindi non potevamo capire con questa canzone. L'estate sta finendo, Iri Geira, l'estate l'hai finita invece, Silvia Gatti? Sì, sì, basta abbronzatura, le ciglia finte sono tutte cadute, ritorniamocene in letargo. Perché le ciglia finte cadono come foglie degli alberi in autunno. Benissimo, direi se hai preparato. Non sapevo che fossero collegati però le due stagioni. Ma d'estate noi ragazze ci mettiamo le ciglia finte per essere comode on the beach, ma poi cade tutto. Cade tutto, cade tutto. On the beach dove sei andata di bello quest'estate? Sicilia, beh, da. Io sto sempre lì a mangiare frittini e fare cose. Bene, bene, bene. Non ci notriamo. Tu e la consorte? Abbiamo fatto un giro, gli ascoltatori sanno, siamo in Estonia, Lettonia, ci hanno seguito, un bel giro. Anche io vi ho seguiti, due matti sui bratti. Un bel giro, bel giro. Estate che ha portato qualche notizia particolare che mi sono perso, quest'estate di gossip, cose così. Dobbiamo stare qui fino a domani, tu ti perdi tutto il bello della vita. Sì, 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 sì. Allora, dobbiamo introdurre subito i nostri… No, va bene, introduciamo. No, allora, cosa è successo? Ma hai iniziato il grande fratello di nuovo? Ascolta, sì. Ah, ok. Grande fratello, Tentation Island, che lo dico bene, non so dirlo, ma… Tutto. Tutto, sì, sì, sì. Già iniziato, peggio del campionato di calcio. Calcio lo sai che con me… La Maria De Filippi mi manca l'appello, i programmi culturali della Mary, Queen Mary, Queen Mary non mi è pervenuto. Io però lo sai che non riesco a guardare Grande fratello di Tentation Island, lo so. Perché non ce la fai? È troppo, cioè non riesco. Grazie. E se è troppo anche per… Non ce la faccio, non ce la faccio, quindi non è un complimento neanche quando mi dicono saresti da Grande fratello, io dico come ti permetti e schiaffeggio con i guanti. Ok, però vedi con i guanti, con un certo stile, infatti, in senso di sfida. Ma vabbè, dai, allora, venerdì siamo andati tutti a letto, convinti che ormai non si parlasse nient'altro, cioè che l'ONU lunedì avrebbe aperto parlando del disting di Tony F e Fedez, no? E invece, e invece… E invece in un weekend? Allora, si è sgonfiato tutto. Anzi, Chiara Ferragni, applauso, mi è tornata alla Fashion Week di Milano. Te hai visto. Era un po' che mancava, sappiamo il perché, non lo ripetiamo. La cosa di cui non parlerò sono le cose veramente brutte che ci sono state nei due disting, quindi riferimenti a uso di droghe e ai figli di Fedez e di Chiara Ferragni. È una cosa che voglio togliere, peraltro i riferimenti sono stati tolti dalle canzoni stesse, dai disting stessi, non circolano più su web. Quindi prima questi… E' un po' che è ridicola come cosa. Perché allora prima lo fai e poi dopo la levi. Assolutamente sì, direi. Allora che disting è? È comunque molto grave. Sono delle hit, alla fine. Pare che ci saranno delle… Dicono così i siti che leggo io, lo sai che mi occupo di cultura pesante, per questo che sono qui. Pare che ci saranno delle denunce. Ah, pure? Sì, sì. Beh, hai sentito cosa hai chiamato Fedez. Però quello che però mi viene da dire è, cioè, il rap è quella roba lì però anche. Posso dire che siamo molto lontani dal dissing fra Drake e Kendrick Lamar. Il rap è questa roba qua in Italia. Ah, c'erano molti più pesanti all'estero. Sì, probabilmente sono anche un attimino più leali. Perché comunque, a mio parere, sono state dette delle cose troppo pesanti. E sì, vocifera che fosse tutto preparato perché poi andassimo tutti a luna di notte, tre giorni fa, tre notti fa o due notti fa. Sì, sì, venerdì. Sì, venerdì. A vedere il termine, il culmine del dissing fra Tony F e Fedez. In realtà non era il culmine del dissing, bensì la nuova hit di Fedez che dice anche delle cose carine su Chiara Ferragni e altre meno. E tutti ci siamo rimasti un po' così. Scusa, devo dire che quindi Tony F in realtà gli ha dato un fianco. Sì, sì. Pare che sia questo. Comunque complimenti ai richi di Tony F. Ecco, va bene. Volevo dirlo. Elvis Presley, Suspicious Mind. Insomma, il sospetto, il sospicio è sospettoso, giusto? Sì, sì. I sospettosi siamo anche noi per tutta questa storia del dissing, no? Guarda, io ormai mi aspetto fregature ovunque, quindi anche Fedez, grazie Federico, Lucia per averci truffati tutti, è stato bello. E il sospetto c'è. Comunque nel frattempo, anzi, 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, arrivano i primi WhatsApp. Una buona settimana agli amici cristallini, alle ragazze della redazione, al direttore e anche la Silvia Gatti. Grazie. Così scrive Alberto. Ciao, Albe. Dopo una lunga serata, ieri alla festa di Cisano Boscone, sì, ieri sera chiusura della festa di Cisano Boscone, e in attesa della pioggia, infatti stamattina Beatrice è arrivata in studio con l'ombrello, già pronta, in stile British, ci godiamo la vittoria nel derby, scrive Alberto, quindi capiamo da che parte stanche, perché se avevamo qualche dubbio ci sono due cuoricini, uno rosso e uno nero. Tu sai che per me il derby è il succo di frutta. Ma infatti, giusto, che ho scoperto, ho cambiato la grafica dell'etichetta, l'ho scoperto ieri mattina. Sì, molto carina. Dopo le otto ne parliamo del derby. Sì, sì. No, ma figurati. Vengono ospiti apposta per parlarne. Proprio, molto bene. Allora, Tony F e Fedez, anche qui non è solo gossip, non è solo marketing, perché innanzitutto questo dissing, pare oramai preparato, si è capito, ha portato varie polemiche, perché ancora siamo tornati a discutere di alcuni aspetti del rap italiano e non, che sono molto maschilisti, macisti, che parlano malissimo della figura della donna. Ma questa è cosa, comunque, nota. È imbarazzante questa fase. Ti ho messo la fase super quark. Mi stai dando dell'animale? No, 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 di quella che è la scienziata che mi sta spiegando questo dissing. Scienziata. E allora ci... Grazie. Per quello, per quello. La scienziata di... Ecco. Pensa ai cali di ascolti. La scienziata di sta sigla. A proposito, la mia sigla di Sì i ragazzi. Ce l'avevo pronta, ma se è entrata subito in trasmissione del primo colpo non ho potuto metterla. Scusa, non l'avevo capito. Poi la mettiamo in mezzo. La mettiamo in chiusura. Ci tengo alla sigla. Allora, torniamo a Poma, invece. A chi ci sta ascoltando adesso? Magari non sa quasi neanche chi è Fedez e Tony F. Allora, adesso ve lo spiego. Quindi, polemiche sul rap. Va bene. Andiamo più a... Cioè, come nasce tutto? Tutto nasce da questo. Innanzitutto, è importante dire che Fedez e Tony F erano amici. Ma lo erano fino a prima dell'estate. Ok. Come io e te. Ma io e te da marzo dell'anno scorso. Poi è passata l'estate e non so neanche chi sei. Ma grazie. Perché mi hai rivoluta qui? T'hanno scritto i miei cugini di origine siciliana di Cinisello. Per quello. Ah, ecco. No, no, quindi. Allora, Fedez chiede a Tony F prima dell'estate di fare una collaborazione musicale. Un featuring. Featuring. Fedez chiede a Tony F. Tony gli dice mentre era sotto al casco per la permanente dei ricci definiti. Che io, cioè, io non so come faccio. Il ragazzo saranno originali. No, perché è nato quel prodotto per i ricci... No, scusami allora. Tony F dice, no, c'ho l'altra, la tizia Gaia. Gaia, sì. Con Sest Samba. Ok. Che avrete ormai vomitato dalle orecchie, che è una hit, mo basta. Ecco che è Natale, signora mia. Fedez, un po', se ne esce risentito. Sai che Fedez è tranquillo di solito. Non ritiga con le... Dire cosa hai toccato, te prego. E quindi, ma da questo no? Da questo no. Ma sai che poi Fedez si è divertito quest'estate. Sì. Tutti a parte me si sono divertiti. Comunque, è stato visto da qua, è stato visto da là, è stato visto con quella, è stato visto con questa. Mancavamo solo io e te ai parti di Fedez. Ti ci vedo. Sono passato da City Life ogni tanto. No, lui era yacht da altre parti, ecco. E non sulla Martesana, te lo dico. Chiara, è stata avvistata con Tony F. Ma sì, ma questo me lo ricordo, ne avevamo parlato qua una volta. Senza di me. No, no, con te, con te. Ah, con me non me lo ricordavo. Si chiama Alzheimer. Sono distratta, ho tante cose a cui pensare. Guarda che ho compiuto 42 anni, non è facile. E quindi, a voi. Sì, agosto, vabbè. Quindi l'ha visto insieme, cioè sono stati avvistati. Sì, quindi uno dice, ah, mi litighi con Fedez e poi ti fai vedere con la Chiara. Mi piace mettere l'articolo, come facciamo noi milanesi. Ma, Fedez, no, chi ha cominciato? Fedez o Tony F? E tu con l'esperto, io non lo so. Io non lo so, credo che no. No, poi Fedez si sarà incavolato per questa roba, non lo so. Sì, sì, sì. Allora, Tony F risponde a Fedez, o Fedez risponde a Tony F. Comunque, vabbè, uno dei due parte, ma il malissimo, e l'altro lo segue peggio, ok? Il Tony, ciao Tony, salutiamolo, mi fa una canzone intitolata, canzone, una dissing, perché è più breve di una canzone, intitolata Chiara. Ok. E dove fa sentire distorto l'audio di Chiara originale, che lei gli ha mandato, poiché si sentivano, dove Chiara pare parlasse male di Fedez e dicesse che lui voleva comprare degli streaming. Quell'altro, quell'altro, non ti direi, guarda, non ti dico, quell'altro gli risponde, insomma, il tutto è riassumibile in de qua e de là, per me. Ok. Alla fine, alla fine, arriva Fedez che dice, in ultima risposta, se volete sapere la mia verità, a luna uscirà, tutti erano lì per la fine del dissing, no. È uscita una canzone. Ma, Chiara… Pronta già da chissà quanto, quindi. Si parla di settimane. Chiara Ferragni, la sera prima, ha parlato in una storia di questa canzone, quindi questa canzone era assolutamente già preparata e adesso ve lo spiego. Allora, ce lo spieghi dopo perché prima ci ascoltiamo proprio Sesso e Sam, ma con Tony F e Gaia. Gian Nannini con Bello e Impossibile, prima mi ha cazziato, si può dire, perché non ne ho messo la sigla, allora mettiamola adesso. Adoro. Sono il gatto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta, con la faccia tv. Più a radio, continuo a dire, più che tv radio. Baffi non ne ha. Te l'ho detto che se mi guardi da vicino. Più, 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 più. Di Ogni十man più verde in realtà. Grazie. Se vi piace, chiamatemi. Silvia Gatti. Eccomi. Sono qui? Allora. Eccola, allora stavamo parlando del dissing tra Fede e Sintonia F Tanto che è arrivato un Whatsapp Anzi prima leggo il Whatsapp di Adriana Che mi sono appena perso Ma eccolo sì, che ha appena ascoltato Bello e Impossibile E invece di scrivere Ah la dedico a te Che non capisco perché non abbiamo capito Che tutta la radio ha scelto questa canzone per dedicarla a me No, non ha scritto questo Ha detto anche se bello Anche se bello, oggi è tutto possibile È lunedì, buongiorno Mamma mia Adriana, siamo vicini e vicine Che è lunedì Poi iniziare con me lunedì non è facile Invece un altro Whatsapp che è arrivato poco fa Buongiorno a tutti da quella di Bergamo Io sapevo poco della questione di dissing Tra Tony F e Fedez Però ieri nella mia via mi è capitato di vedere qualcosa di davvero spassoso Su un camioncino parcheggiato nella via Un camioncino male credo C'era scritto Questo camioncino è parcheggiato in una via privata da tre giorni Se entro domani e non lo sposta sarò costretta a farle un dissing Sì Fra estranei è un po' di fila Vedo dura Non è male Però no Adesso partono dissing C'è gente che diceva Non vi potevate telefonare E no Perché sai che ci hanno guadagnato Pure followers Dicevo Chiara Ferragni la sera prima pubblica una story Oltre ad avere già pubblicato prima un'altra story Dove chiedeva di essere lasciata stare Lei e i suoi figli Anche lì molti dicono Ma hai pubblicato fino a ieri E lo so però lì l'ha deciso lei Poca di protesia sembrava Sì però essere tirata in mezzo è diverso che decidere di pubblicare le tue robe Almeno questo è il mio parere Pubblica una story dove sembra già conoscere il testo della canzone che dissing appunto non era Dove lei dice Non verrà pubblicato nulla di sincero né di romantico È solo qualcosa che vuole cavalcare l'onda per guadagnare Quindi aveva ragione Però si capiva che sapesse già qualcosa del contenuto Assolutamente sì Sento odore di avvocati ma io non voglio dire Prima che non escano robe Saranno già lì che lavorano Già aggiungono un paio di fogli in più Sai poi perché cosa ha portato molto diciamo Molta visibilità C'è la settimana della moda a Milano Quindi Fedez è così Pappa e ciccia con la Donatella Versace Mi ha vestito anche il cane La Donatella Versace Ho visto Silvio il cane di Fedez che mi fa morire Quando si dice cani e porci in questo caso Francavano solo i porci quindi evidentemente Io mi dissocio I cani c'erano Nel senso che i cani c'erano Quindi c'è Posso dire che secondo me In tutta la Fashion Week Ma a me ci gioco come si dice Le mani Dire no C'era qualcuno sicuro che ha portato un maialino in giro Ma guarda ma ci giova Sì o il gatto anche Ma sì ma sicuro C'è cani e porci c'erano tutti e due Io vorrei vedere qualcuno che porta in giro un uomo Quello ho visto delle cose A Zurigo ci sono La famosa Pride Come la Parade La Street Parade A Zurigo Se ne vedono Cani al guinzaglio Uomini, donne Adoro Se ne vedono Comunque quindi a che punto siamo arrivati adesso Che in realtà si è sgonfotto tutto Perché tutto questo per far uscire una canzone Sì E ha creato molto hype Un sacco di visualizzazioni Gente che era su YouTube A luna di notte Col pigiama e i popcorn Hanno detto Che sono state avvistate Hanno detto che poi Bisogna sempre vedere chi A caso Mi zia De Palermo Ecco Dice 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 Ecco Gli hanno visti Loro e le loro security La loro security Il loro entourage Ok Moderna e poliglotta Sì Dice Dice Nella hall di un hotel Che parlavano Fede Zitonief Sì Post Dicing Ecco Dopo tutte queste cose Come certi politici Che si scannano poi Nel programma Prima della prima serata E poi sono a cena Insieme a Roma Scalpore aveva fatto anche la famosa telefonata Di Fede Zat Ad esempio Salvini Mi ricordo Dove Si prendono sempre a parole Poi Ciao Matteo Cioè nel senso Gli aveva fatto uno scherzo telefonico Peraltro Salvini rispose A Fedez preoccupato Perché Salvini poi ha detto Mi sembra uno scherzo di cattivo gusto Poiché ci conosciamo E vedere squillare il telefono Alle dieci e mezza di sera Non è stato per me Comunque molto divertente Quindi Salvini si era anche preoccupato Per Federico Federico lo stava Federico ha questi momenti così Di giocosi tipo dodicenne Ma apprezziamo Voglio dire Beh sì La tua La chiamo tua amica Nel senso che Non so che la segui molto Selvaggia Infatti ha avuto da dire Ha avuto da ridire Quello non è ridire Quello è Cioè Fra l'altro Selvaggia Ricordiamolo Ha aperto una newsletter Sì Alla quale ci si può abbonare Quindi non vi spaventate Se vedete dei suoi articoli a metà Perché dovete pagare per leggerli Aggiungo giustamente Ti sei già scritta No Non ho le finanze giuste O mi faccio i capelli O ascolto Selvaggia Allora Facciamo qua C'è l'SMS Facciamo l'SMS solidale Per usare No no Per carità La newsletter No assolutamente no Se volete mandarmi il panettone Vegano a Natale Non possiamo vendere dei pandori Per portare i soldi Non dire pandoro Mi sembra Ha avuto un'idea geniale Non l'ha fatto nessuno Prendiamo dei pandori Ci mettiamo sulla tua faccia E diciamo Li vendiamo Per far iscrivere Silvia Gatti Alla newsletter Sei orrendo direttore Guarda Io mi dissocio Beatrice Di la giovane Non deviarla così Non ti sembra intelligente Come idea Mi sembra Mi sembra Soprattutto innovativa Mi sembra Mettiamoci la tua Di faccia Va bene Va bene Comunque La Bea Giustamente Siccome prima Ho tralasciato l'inizio Di questo dissing Perché me lo sono scordato Sì Ma anche perché Si vendito alle calende greche La roba di aprire Maggio Sì Ma poi io avevo Il cambio degli armadi Da fare Le scarpe A parte che è un caldo Oggi Vabbè A Milano Il dissing ci diceva Giustamente Beatrice Che ha iniziato In un programma musicale Chiamato 24 barre 64 Scusate Ho detto 24 Come i miei anni Dove Fedez Ha iniziato A dissare Tony F Giusto Insieme a quell'altro No c'era quell'altro C'era Nick Savage Tony F Ha dissato Nick Savage Non Minage Savage 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 Il profumo Savage No Savage No Savage Vero Stanno tutto questi ventenni Incredibile E da lì poi Quello che sappiamo Savage T'hanno mai preso Come speaker pubblicitario? Dovrebbero Hanno fatto bene Se non t'hanno preso Basta Allora Non è l'orario giusto Per questa voce E pur home E anche per i misti Ah C'è qualcuno che dice Che addirittura Fedez E Tony F Avessero avuto una relazione Però adesso Qualsiasi cosa Si può dire Cioè Anche che uno dei due Viene da Marte A questo punto No no Però per dire Sembrava un po' Un litigio fra ex A volte Sai quando le ripicche Insomma Vabbè Ne parleremo ancora Non lo so Spero di no Intanto andiamo con un po' Di musica E poi Vediamo 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 cosa ne dite Anche voi da casa 33178 535555 5355 5355 E giustamente Ma lei è Meravigliosa Chi è Allora salve Io sono il direttore Fabio Ah no Lei non Mi sta andando Lei nel messaggio Che non ce l'abbia con lei Fra me e te Credo che Ecco Pensavo di ciasse che io Ero meravigliosa Ma lei Direttore meravigliosa Caro appassionato di guinzagli Ci sentiamo dopo Ok Non so se è un uomo o una donna Quindi Va bene Perfetto Ma lei chi è E quindi chiediamo Lei chi è Lui chi è Ciao Sono Silvia Gatti Ok Silvia Gatti Passavo di qui Da Milangeles Da Lambrate Da Lambrate Con furore e mezza ortica Rubattino Si può dire l'età Ma l'ha letta prima 41 Ok 41 anni Speaker radiofonica di fama mondiale No Soprattutto in quelli di Lambrate No Neanche i miei cugini di secondo grado Credo sappiano faccia radio Ma va bene così Non è vero dai E come ci sei arrivato qui Nel senso che capiamo Sono caparbia Tu lo sai Io rompo le palle Bene bene Sì Segno Segni particolari Segno zodiacale Leone Ah leone ok Se dicevi agosto Sì 17 17 agosto Segni particolari Ritenzione idrica Bene bene Insomma E niente Piango spesso Tutti i giorni Ecco Per la ritenzione idrica No in generale Fa bene Escono gli qui Quindi se piangi Può aiutarti un po' Può aiutarti Ma che cos'è questo sputtanamento In diretta mio Mi hanno chiesto qui Mi hanno chiesto lei chi è Meravigliosa Pigliati i complimenti Però devi anche rispondere alla domanda Allora Alla domanda Sì Salve Lei è Chi è lei Che carino Silvia Gattioner Su Instagram Se volete seguirmi TikTok non ce l'ho Perché ho passato già Non sei una delle Mammine TikTok Non sono le mammine No Nel senso Quelle lì che sono Appunto Stavo dicendo Ci hanno più di 40 anni Come dire Una roba dei vecchi Poi ci ho pensato Che anche noi Quindi Sì noi insieme Facciamo 80 anni e passa Sono rallentato un attimo Ne facciamo 85 insieme Mamma mia Non me ci fa pensare Mamma mia Siamo pronti Altro che prostata Perché prima parlavo fuori onda di cose Allora Cioè Qui però Medicina 33 Sta bussando Fateci sapere La vostra La vostra osteoporosi Se volete Se avete fatto tutti i controlli Tutti i controlli Vogliamo parlare del brand vegano Di prodotti per capelli Che ha pubblicizzato Chiara Ferragni in Spagna No Parliamone Io Guarda Ne sapevo tantissimo Ma non volevo Quindi chiedo a te Guarda Non ho detto di cosa stai parlando Allora Polemica Chiara Ferragni In tutto sto casino Ha preso E è andata a lavorare all'estero E ha fatto bene Credetemi Sempre ben vestita e truccata È La Diciamo Figura Come si dice La brand Bea Come si dice Quando una rappresenta un brand Ambassador Brand ambassador Che bello avere la redazione giovane Brand ambassador Testimonia È la testimonial Esatto Di prodotti per capelli Vegan E cruelty free E molti hanno detto Scusatemi Ma con tutte le borse di pitone E gli stivali di coniglio Che tiene nella cabina armadio Proprio lei E allora qui O gli spagnoli Non ci capiscono niente O ci hanno capito tutto E vedremo i risultati Fra qualche mese Perché comunque Effettivamente è strano Di vegan washing Bravo Mi è piaciuta questa cosa Sì 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 La credibilità Più che altro Effettivamente Chiara Ferragni Non si è mai esposta Per la causa animalista Non ha mai parlato Di veganesimo Non C'era altro Teoricamente Sì da Da prendere È stata presa lei E così Sì ecco Possiamo anche dire A sua insaputa Le borse di cose Le regalavano Le più delle volte Quindi arrivavano Ma tu non li prendi Dire Anche quello è vero Anche quello Può essere una giusta soluzione Effettivamente Però sai A tua insaputa Qua ci sono case Mi ricordo Cose di ministri Bruce Priest Che salutiamo Caro Luca Giurato Qualcuno Doveva portare avanti Certe tradizioni Quindi sostanzialmente È ricaduto su di me Vogliamo salutare Ricordare anche Una vera sciura milanese Che era Paola Marella Sì 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 Veramente È una di quelle notizie Che è arrivata Dopo il weekend Giusto Ha pubblicato Quattro giorni fa Cinque giorni fa Uno dei suoi video Dove comunque Faceva vedere Un po' di tutto Sia le case Ma anche i vestiti Ecco E niente Ci ha lasciati Paola Marella Volto storico di Real Time Dal 2005 Quando ancora Quel tipo di tv Qui in Italia Era avanguardia pura L'ha ricordata Enzo Miccio Le sue collaboratrici E tanti volti Comunque Della televisione Dello spettacolo Era molto amata Era proprio la tipica sciura milanese Hai presente Con la pashmina E le ballerine Ma mai fuori luogo Sempre comunque Un salutone Purtroppo Adesso non voglio concludere Con Però Ci ha lasciati anche La mamma di Marco Mengoni Salutiamo Marco Mengoni Erano molto legati Lo sappiamo Nell'ultimo Sanremo Anche lui Le aveva dedicato Uno spazio Probabilmente Già la signora Non stava bene Qualche mese fa E nulla Sono delle perdite grosse Esprimiamo insomma Come Good Man in Milano La nostra vicinanza Ma Chiusa questa triste parentesi Ma doverosa Dire Mi richiami? Sì Al telefono E basta Ah non c'è più Ad avversare la città No Penso a te Più che altro Come ti è venuto in mente Di richiamarmi Dai lo sai Io quando ho bisogno Di aiuto da casa Ti chiamo Grazie Ti faccio venire qua A spiegarci queste cose Dopodiché Come avete notato Adesso cerco di Stramatizzare un attimo Se avete bisogno Per necrologi Funerali Così potete chiamare Silvia Gatti Che è bravissima A fare discorsi Di commiato Che fa così fiori E sai Lavora non soffre Cioè lei fa i fiori E tu fai il discorso Di commiato Beh bellissimo Sì io faccio questo Mamma ma che tristezza Ma dire Volevo fare una cosa deligiale C'è la crisi C'è la crisi E quindi si trova In tutta maniera Per poter arrivare Mio padre dice Mettetemi nel sacco Dell'umido Quando sarà Bene E con questo Un saluto A Gianca Va bene Silvia grazie Grazie a te Dire Grazie alla redazione Di Good Money Milano Grazie anche Alle nuove ragazze In redazione Bene Grazie a tutti Ci sentiamo più tardi Ciao Gerre 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 Buon lavoro a tutti Puntata speciale Oggi qui Da piazza Del Duomo A Milano E allora Vediamo insieme Le tre parole chiave Della settimana La prima parola chiave Della settimana È Autenticità Il segreto Della comunicazione Aziendale L'autenticità Perché il pubblico Apprezza E riconosce La sincerità È la bella lezione Di Giovanni Rana Che a ottobre Compirà 87 anni Una volta Una volta raccontato Chiesi a Mike Buongiorno Un parere Sul mio ruolo Nelle campagne pubblicitarie Mi disse che Non avevo bisogno Di consigli Perché il segreto Della comunicazione Della comunicazione Per lui Per Mike È sempre stato Quello di essere Autentici Due grandi E autentici Mike E Rana Nel centenario Della nascita Di Mike Buongiorno La seconda parola chiave Della settimana È separazione Vita Lavoro Il segreto Della serenità E della produttività Separare vita E lavoro Lo dice Il signor Riso Gallo Carlo Preve Consigliere delegato Dell'azienda Di Robbio Lomellina Cerco di separare Il più possibile La vita Professionale E quella personale Ha raccontato Quando mi trovo In azienda Mi concentro Sulle responsabilità E sugli obiettivi Professionali Ma quando termino Cioè finisco Di lavorare Mi dedico Alla famiglia E alle mie passioni Questo Mi permette Di godere appieno Di entrambi Gli aspetti Senza che appunto Si sovrappongano A casa dunque La vita privata Al lavoro Il lavoro Bella lezione La terza E ultima Parola chiave Della settimana È Emozioni Le emozioni Sul lavoro Importantissime Anche Per chi ha ruoli Di responsabilità Lo dice chi? La più giovane Primaria D'Italia La padovana Gaia Spolverato 41 anni Le emozioni Che hanno sempre Rappresentato Lo stigma Del genere femminile Sono la base Della leadership Emotiva La forza Che permetterà Di essere La migliore Opzione Appunto Lo ha detto Gaia Spolverato La primaria Più giovane D'Italia Dunque Vengono Le emozioni Anche Sul lavoro E allora Buon lavoro A tutti Gianni Bigood Chuck Berry Alle 8 e 12 minuti Questo era il Crystal History Delle 8 Vi ricordo che Ogni ora Dopo il giornale radio C'è il Crystal History Una canzone dal passato Di quelle che hanno fatto Magari La storia della musica Come ad esempio In questo caso Con Chuck Berry Lunedì 23 settembre Per molti È il giorno dopo Del day after Del derby Di Milano E come sapete Io non ci capisco Assolutamente niente di calcio Allora anche in questo caso Ho chiesto l'aiuto da casa E da casa Mi ha raggiunto Sergio Meazzi Buongiorno 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 E buon risveglio a tutti Buona giornata a tutti Una giornata raggiante Con sole Abbiamo già capito Da che parte Della madonnina O del naviglio Sta Il nostro Sergio Meazzi Un pochino Un pochino Un pochino Ok In realtà Diciamolo Noi ci eravamo sentiti Già prima Cioè non è che C'è stato scritto Ieri sera Domani vieni Ci eravamo sentiti Forse un paio di settimane fa Dicendo Voglio parlare di derby Vieni qui Oh ti ho portato fortuna Lei Direi di sì A questo punto Mi sa che Tutti i derby Dovranno necessariamente Venire in studio Allora Come è andata Ne raccontiamolo Per quei pochi Che non l'hanno seguito Direi che Per il Milan È andata molto bene Ok Per l'Inter Quasi Messia della Palis Sarebbe andata Non troppo bene Un derby Che credo che il Milan Abbia assolutamente meritato E come sempre Accade nel derby La squadra che è Meno qualificata Per poter fare risultato In realtà Fa risultato E credo che sia Una regola quasi fissa Ormai del derby In generale Sì in generale È sempre un po' così Devo dire che Ho visto Sì entra Papi E si esce cardinale Anche lì Esatto Devo dire che ho visto Un Inter un po' sottotono Rispetto all'Inter Siamo abituati Siamo abituati a vedere Ma devo dire Anche una prova di orgoglio Del Milan Che ha giocato molto bene Ecco un risultato Che però è arrivato All'ottantanovesimo Insomma qualcosa del genere L'ottantanovesimo Gabbia Ingabbiato Piccola nota a margine Stamattina leggevo Vari post In giro Sulla rete Di tanti anche I miei amici Che appunto usavano Questo gioco di parole Ingabbiato L'hanno messo nella gabbia La gabbia E dicevo Ma chi è gabbia Chi è gabbia appunto Chi è gabbia E abbiamo scoperto Che gabbia appunto È un difensore del Milan Nato peraltro Nella società Milan Quindi viene dal vivaio È un giocatore da vivaio È l'unico Forse italiano Che ieri era in campo Non vorrei sbagliarmi Ma era l'unico italiano in campo Ok Io sono rimasto ancora Quando se ne poteva mettere Massimo tre Tre Infatti c'erano i tre olandesi Quello Mi ricordo Adesso bisogna mettere la regola Almeno tre italiani Questo Non perché Prima gli italiani O così Ma so che è tutta una questione Ad esempio poi sul fatto che Però poi La nazionale E quelle robe lì Hanno difficoltà poi Anche a trovare giocatori Di livello Perché poi appunto Si giocano solo gli stranieri È un casino No? Sì sicuramente È un calcio da rifondare No? Insomma anche In qualche maniera Spalletti L'ha un po' ipotizzato Con delle dinamiche diverse Inventandosi magari Qualcos'altro Certo è che Ovviamente Non facendo giocare I giocatori italiani Dei nostri vivai Sicuramente anche la nazionale Avrà delle difficoltà Come poi ha avuto Speriamo che magari Questa riforma Come tutte le riforme Si dicono Facciamo la riforma Facciamo la riforma Ma all'estero come fanno? Quelli che vincono Hanno delle regole Hanno delle cose Hanno i vivai Non hanno i vivai Vengono a giocare I nostri campionati Quindi è qui che fanno La gavetta Lavorano in modo diverso Tanto il calcio Non è diciamo Una religione Quindi è preso Un pochino Molto largo C'è libera iniziativa Così si può dire La prendono Molto meno seriamente Diventa proprio Un gioco Soprattutto gli inglesi E quindi Probabilmente La produzione È più fertile Ok Allora Dopo Andriamo invece Proprio nel vivo Del derby Perché voglio capire Appunto Fai un po' di pagelle Più o meno Mi dici Chi secondo te È stato all'altezza Del momento E chi invece Magari ha subito Anche la pressione Che sicuramente Un derby Ti metterà addosso Cioè Mi immagino Quegli 80.000 intorno Insomma Faranno un po' No? Subito dopo questa canzone Ancora qui con Sergio Miazzi Parliamo di derby Parliamo di Milan Inter Se volete anche voi Intervenire 331 78535555 Soprattutto Intervenite Dammi una mano Perché io Vi ripeto Non so assolutamente Niente di quello Che stiamo andando a raccontare Quindi io Do tutto in mano A Sergio In questo momento Sergio ha in mano Le sorti di questo programma Sergio Giusto Poca pressione No pressure No pressure No pressure Zucchero Vedo nero Anzi Vedo rosso nero Giusto Sergio Questa mattina Vediamo tanto rosso nero Vabbè Allora Però arriviamo a capire Com'è che siamo appunto Stamattina Vedendo rosso nero Quando se avessimo fatto Questa trasmissione Venerdì Avremmo detto Eh ma l'Inter Sarà una passeggiata Per l'Inter Ma forse è esagerato Adesso No 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 Ma non è esagerato Secondo me È proprio così L'Inter Teniamo in considerazione A parte che è campione D'Italia È una squadra Che ha fatto Delle ottime performance L'anno scorso È arrivata in finale Di Champions L'anno prima Quindi sicuramente È una squadra Diciamo Da battere Una squadra Ovviamente Fonseca si salva Tipo Eh sì Perché nel calcio Si usa Io sai che se Fonseca Penso è di Fonseca Le scarpe Quelli Le spadrilla Ma nel calcio Si usa Si usa Non è stato allenatore Della Roma Ah allenatore Della Roma Non ha mai giocato a calcio No Credo che abbia giocato Sì sicuramente a calcio Però non credo in Italia Ah ok Non c'è un altro Che siamo uguali No ma sai Nel calcio poi si usa Tu perdi Poi Non fai ottime performance Per tre partite Già tutti parlano Dell'esonero È una cosa incredibile E lui poverino Ha passato Credo Una brutta settimana Perché lo davano già fuori Addirittura fuori Se vinceva il derby Ah pure Però comunque Questo è il calcio Insomma Anche lì Questo è il calcio Però in Italia Io mi ricordo Adesso non so Mi ricordo C'erano degli allenatori Che sono stati vent'anni C'era quello Il famoso del Manchester Eh quello lì Qualcosa so Non so perché Ma qualcosa A macchia di lopardo so Quello era stato allenatore Non so per vent'anni Tipo qualcosa del genere Ancelotti nel Real Madrid Ah Ancelotti Ok Real Madrid è una corazzata Per cui insomma Vince tanto Però avrà anche perso Qualcosa ogni tanto Avrà avuto anche lui Delle crisi Poverero Ma diciamo che C'è una cultura diversa Negli altri paesi In Italia c'è la cultura Insomma Dello scoop Dopo una partita Già parlare È come quando finisce Il calcio mercato Il giorno dopo Parli già del calcio mercato Di gennaio Mi ha appena finito E quindi Questo è un po' Diciamo così E per fare notizia Si cerca sempre ovviamente Di trovare Un'altra cosa Di questo calcio Che faccio fatica A capire Sono le società Nel senso che Sono Milano e Inter Per me erano Berlusconi e Moratti Punto La chiudevo così La situazione Oppure mi ricordo Pellegrini Il presidente dell'Inter Di quando ero bambino io Ecco cioè Adesso Non so neanche chi siano Rizzoli Rizzoli Storiche Agnelli Con la Juventus Adesso Fai veramente fatica Non so chi sia Il presidente del Milan Non ho una mini media Di chi sia Allora Il presidente del Milan È un americano cardinale Ah ok Di nome non di fatto Esatto Ok Ma sai Tu sai Che io sono abituato Un po' a dire Quello che penso Non ti avrei chiamato Esatto E qui Il vero problema Che sta Diventando Sono diventati Dei prenditori Non degli imprenditori Ah ok Allora ci sono questi fondi Che hanno svariati miliardi Da poter spendere E le spendono ovviamente Per fare business E Tocca il calcio E tanto è vero Che poi noi parliamo Dello stadio di San Siro No E adesso non so Ne volevo parlare Ne volevo Ne sono sapevo Io volevo arrivare poi Ma in realtà La cultura calcistica È pari allo zero È pari allo zero Secondo il mio punto di vista Mentre questi presidenti Innamorati del calcio Innamorati della città Innamorati della squadra Avevano passione E portavano passione Anche ai tifosi Poi mi ricordo Che erano anche criticati Forse per questo Perché ci rimettevano Troppo cuore Poca testa A volte Esatto Però io Insomma La sentimentale preferisco Più cuore che testa Il Moratti interista Mi è sempre stato molto simpatico Ci ha messo sempre Tanto cuore Molto portafoglio Esattamente Ma era Ve lo ricordate Prisco Prisco Che era il mio cugino avversario Lui avrebbe detto Mai cugini Ma Prisco era simpaticissimo Era un interismo Ma il suo interismo Era simpatia Era l'essenza del derby L'essenza della stracittadina La bellezza del calcio Quindi insomma E' proprio I tempi che cambiano E' una cultura Che comunque fa fatica Cioè mi sembra Che i tempi che cambiano E la cultura del calcio Va avanti Ma ad esempio Il pubblico La nostra società Non si è ancora pronta A questo cambiamento Perché poi appunto Non sei l'unico A lamentare Di questi Cambi un po' così Di queste società Che appunto Prendono più che imprendere Ma sì e no Nel senso che Magari le vecchie generazioni O comunque Le persone che hanno vissuto Un periodo storico Particolare La pensano magari Forse così Ma altri no Pensano che tutto sia lecito Che in funzione Di una squadra di calcio Si possa fare qualsiasi cosa E si debba concedere Qualsiasi cosa Credo che sia sbagliato Bene Come ad esempio Magari costruire uno stadio Bene Parliamo dopo la prossima canzone Perché Beh non posso Non parlare con Sergio Che ricordiamo Essere anche stato Un amministratore locale Quindi insomma La questione La conosci molto bene Prima però Ci ascoltiamo George Evra Con Budapest E poi torniamo qui A parlare appunto A questo punto Di parlare Per l'ennesima volta Dello stadio Di San Siro E Rosamazzotti Terra promessa E ovviamente arrivano subito I whatsapp Al 3317853555 Con Cantata tutta E beh queste Le mettiamo Le mettiamo apposta Lo sappiamo Lo sappiamo Anzi Grazie mille Ancora l'ufficio programmazione A Beatrice Che ogni giorno Fanno una loro Contrattazione Non sindacale Ma musicale E trovano Le giuste canzoni Per la nostra Mattinata Allora Stavamo parlando di queste società Che prendono Ma è poco imprendono Mi è piaciuta questa cosa Sono più prenditori Che imprenditori Mi è piaciuta molto Questa uscita Ma sì Sì è così Se ci pensate è così No Avevamo i vecchi presidenti Che mettevano tanti soldi Berlusconi Moratti Pellegrini Eccetera Questi di soldi Le mettono Se ovviamente guadagnano E quindi La mentalità È totalmente opposta Da quella Passionale Del gioco del calcio Ed è questo Che ci porta Ancora a parlare Di stadio Perché c'è poco da fare Questa operazione Immobiliare A San Siro È tutt'altro Che lo stadio Punto Ma infatti Quello che in genere Le persone Insomma Ognuno poi ha le sue opinioni Ma che non capiscono È proprio questo Il tema Non è lo stadio L'ho scritto Pochi giorni fa Sulla mia pagina Facebook Il tema Non è lo stadio Il tema Sono le volumetrie altre Ok Interessano volumetrie altre Per fare business Altro E quindi Non è lo stadio Non è che con lo stadio Tu diventi ricco Famoso E prendi Pelè Non è così Hanno bisogno Volumetrie Giustamente Un'amministrazione pubblica Per dare delle volumetrie A poco costo Ci pensa Ottocento volte Perché una volta Fatta la delibera Fatta la determina La Corte dei Conti Potrebbe Reclamare qualcosa E quindi Ovviamente Anche un sindaco È soggetto A un'indagine Credo che nessuno lo farebbe Ecco E infatti la situazione è quella Che in realtà però In questo momento Mi vengono in mente Ci sono almeno tre sindaci Che sono presi in considerazione Perché c'è uno di Milano Appunto che deve Capire cosa fai qua Rozzano con l'Inter Sandonato con il Milan Io poi mi permetto Di dire una cosa Conoscendo anche Beppe Sala Sì Diciamo Sergio tu hai fatto Appunto Politica per tanti anni L'hai fatto anche Da amministratore Locale del Municipio 6 In quota Appunto Centrosimistra Quindi sicuramente Col sindaco Hai avuto modo Più più volte Di incontrarti Assolutamente sì Quindi non è un segreto Ma credo Per quello che lo conosco Una persona assolutamente Disponibile Se quell'operazione Non la vuole fare È perché Non la può fare Perché sa perfettamente Che essendo Delle volumetrie In capo ai cittadini Ovviamente ci sono Delle regole Che devono essere Necessariamente rispettate Quello che un po' Gli si contesta È il fatto però Che non si capisca Appunto Cosa vuole fare Cioè Se sei d'accordo Se sei d'accordo Sembra quasi A volte sembra quasi Che voglio fare Dei regali alle società Altre volte invece Le società lamentano Che non si vuole Sbilanciare Dire cosa si può fare Su quell'area Guarda io credo Che Sala sia sempre Stato molto chiaro Ma lo penso proprio Nel senso che La cosa è molto semplice Gli ha chiesto alle società Volete gestire Volete comprare lo stadio Perché se il problema È lo stadio Ve lo do No Patruiamo una cifra Ci mettiamo d'accordo Avete lo stadio Per x anni E fate tutte le modifiche Necessarie Per poter avere Lo stadio di proprietà Ma le società Hanno detto di no Le società Hanno detto di no Quindi È del tutto evidente Che per un'amministrazione pubblica Avere uno stadio Diciamo come San Siro Che è la scala Del calcio mondiale Da tutto il mondo Vengono a Milano I turisti Per vedere La Madonnina E lo stadio di San Siro Ricordiamo che il museo Dello stadio di San Siro È il terzo museo Più visto in città Ecco Quindi E questo credo Che è la dica La dica lunga Ma il problema È difficile gestione Poi dopo Se le squadre di calcio Milano e Inter Vanno via da San Siro Cosa ne fai di questa struttura E qui Si è ipotizzato Hanno ipotizzato Tante cose Che però Sono tutte da mettere in fila E non sono scontate Eh infatti Perché Quello del cerino in mano È la grande paura Ed è anche La grande Quasi ricatto Che viene fatto Io penso che Un comune Non può essere ricattato Assolutamente Il comune Dei cittadini I cittadini hanno Appunto in gestione La cosa pubblica E quindi va Ovviamente Donata Ceduta Prestata Affittata Nelle modalità necessarie Come andrà a finire Tu ti sei fatto un'idea Non hai la palla di cristallo O meglio Come ti piacerebbe Che andasse a finire Andrebbe Andasse a finire Scusate Come ti piacerebbe Che potrebbe andare a finire E invece come Potrebbe invece andare a finire Allora Intanto Posso fare una piccola Perché Nessuno parla poi Di San Donato E Assago Che sono le due aree deputate Una per il Milan San Donato E una per l'Inter Assago Quella di Assago Peraltro l'Inter Non l'ha ancora Credo opzionata Insomma È molto indietro San Donato Il Milan Penso che l'abbia già Opzionata Comprata Eccetera Ma c'è un elemento Secondo me Che in genere Non esce nella discussione Per poter gestire Una partita di calcio Del Milan O dell'Inter In una cittadina Così piccola Hai bisogno Dei servizi I servizi Banalmente Sono la polizia locale Che fa traffico Voi vi immaginate San Donato Quanti vigili avrà E quanti ne dovrà avere Per poter fare Una partita Alla domenica del Milan Quindi Io fossi Diciamo così Di nuovo In pista Suggerirei Alle società Di ritornare Al tavolo E di non Applicare Questi ricatti A Milano E ai tifosi Del Milan E dell'Inter Che non se lo meritano Per nulla San Siro È il teatro Ovviamente Del calcio mondiale E secondo la mia opinione Le due squadre Dovrebbero rimanere A San Siro Lì c'è la storia Lì c'è la passione Di milioni E milioni Di cittadini Milanesi E non solo Anche italiani Che tifano La loro squadra E quello Del doppio stadio È appunto Quello che molti dicono Però poi Cosa ce ne facciamo Perché l'idea di costruire Quello stadio Di fianco all'altro L'altro Sembra sempre più impossibile Che venga abbattuto Per fortuna Non è da dire Tra malesi So che ad esempio Non esiste neanche Un sistema ancora Proprio inventato Per smontare Il terzo anello Cioè sarebbe da studiare Perché Per come è stato costruito Cioè nessuno poi ha pensato Come si sarebbe dovuto smontare Che vabbè Però Comunque Una di quelle trasmissioni Come grandi costruzioni Quella roba bellissima Virebbe Ma intanto c'è un vincolo Ah giusto Tanto per cominciare C'è un vincolo Punto a capo Quindi è di difficile risoluzione Puoi lavorare sul terzo anello Perché è l'ultimo elemento Non storico Che è stato costruito Ma nello stesso tempo Io faccio notare due cose Che in genere Non sempre si riescono A percepire Primo Demolire San Siro Ha un impatto ambientale Allucinante Perché pensate Quanti metri cubi Di cemento Devono essere smaltiti Costruire un altro stadio A fianco a San Siro A me francamente Sembra una follia Perché hai uno stadio Praticamente Che potrebbe essere vuoto Che potrebbe essere Per altri tipi di situazioni E a fianco Hai uno stadio Totalmente nuovo Di una squadra di calcio Di due squadre di calcio Torniamo alla realtà La realtà è un pochino più diversa Questa è la mia opinione Poi insomma C'è una grande discussione Ecco Quello che un po' Mi ha lasciato stare fatto In questa situazione È il famoso dibattito pubblico Mi è sembrato un po' così Una cosa fatta Giusto perché andava fatta E ne è uscito poco Almeno dal mio punto di vista Diciamo che ultimamente I dibattiti pubblici Sono sempre molto difficili E soprattutto nei contenuti Fanno fatica a relazionarsi Non so come dire L'abbiamo avuto per esempio Col Covid L'abbiamo avuto per la guerra L'abbiamo avuto per lo stadio È sempre difficile Quando uno ha una posizione Allora tu sei per No Semplicemente una posizione Tifoserie In questo caso Tifoserie In questo caso Io sono solo tifoso del Milan Mi dispiace per i cugini dell'Inter Però questo è quanto Ok 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 Bene Allora andiamo avanti con un po' di musica Poi torniamo qui Sì perché vabbè Già che ci sono Voglio capire un po' invece Come sta andando questa Milano Ai tuoi occhi dai Passiamo invece alla sponda politica Abbiamo parlato dello sport Siamo passati allo stadio Che ci ha unito i due mondi Passiamo alla sponda politica Di Sergio Meazzi Va bene Così voglio capire un po' Come va questa Milano Questo modello Milano Che tanto viene millantato Raccontato Chi dice che non va bene Chi dice che invece è perfetto Insomma cerchiamo di raccontarcelo E di capirlo meglio Insieme appunto qui A Sergio Meazzi Subito però prima Ci ascoltiamo in UGENEA Con Tiena te 331-78-53-555 Crystal Radio Good morning Milano In UGENEA con Tiena te Alle 8.46 minuti Allora Milano Milano Modello Milano Sergio Modello Milano Che ormai è dal 2015 Che va avanti Troppo vecchio Ancora valido Non ha mai funzionato Funziona bene Cosa ne pensa Sergio Meazzi? Ma dunque Un'amministrazione pubblica Una città come Milano Una grande metropoli No è sempre difficile da governare Non è sempre E questo ricordiamo Perché non è per niente semplice L'ho provato diciamo Sulla mia pelle Cosa vuol dire Diciamo Dedicare dieci anni Con passione Alla cosa pubblica E all'amministrazione Quindi non è facile Tutti i cittadini Vorrebbero una cosa Ma insomma È difficile mettere d'accordo Sempre tutto Anche perché spesso Quello che voglio io È il contrario Di quello che vuoi tu Quindi C'è già quello Parte Uno dei due Rimarà deluso Io penso Tutto sommato Ma credo che anche Le performance Dei turisti Dell'economia È una città Che è cresciuta tantissimo Quindi Questo è innegabile Che sia una città Vuoi per Expo Vuoi per le scelte Secondo me Della prima giunta Pisapia Dove ha aperto Milano all'Europa Com'è la sua storia Com'è la sua natura Milano è sempre stata Una città aperta al mondo E accogliente al mondo Storicamente E quindi Io credo che questo Sia stato un po' Il grimaldello Che ha fatto partire La città Ora hai delle situazioni Che devi governare Che secondo la mia opinione Per esempio La prima cosa È il traffico E io personalmente Potessi decidere Farei una decisione drastica E cercherei Laddove è possibile Di sviluppare Più corsie preferenziali Per i mezzi pubblici Anche a costo Di ridurre La careggiata E le autovetture Faccio un esempio Se vi ricordate La 90-91 Credo che si chiamino Ancora così Le linee Sì 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 Ma al 91 Sì 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 giorni poi Ecco Prima Della corsia preferenziale Era un delirio Poter prendere Questi mezzi Io mi ricordo Che dovevo andare in macchina Perché andavo da quelle parti Era un problema Perché i tempi Erano enormi Con la corsia preferenziale Si sono dimezzati Se non Quindi Finalmente Verrà completata Perché in questi giorni Adesso Venerdì Hanno chiuso finalmente Piazza Stuparic Per nove mesi Chiusa per fare la nuova Finire la corsia preferenziale E credo che sia Una dei temi Della Milano Futura La mobilità La cosiddetta mobilità Da ovviamente rilevare La M4 Ragazzi M4 San Cristoforo Linate 15 minuti Sapete cosa vuol dire? Vuol dire Che tutti quelli Che arrivano Dall'aeroporto di Linate Come Madrid Come in tutte le grandi Città mondiali Possono perdere La metropolitana E transitare Tranquillamente in città Passando dal centro Ma anche dalle cinture urbane Non amo chiamarle periferie Perché Milano Non ha periferie Ma cinture urbane C'è tutto uno studio Su questo Io sai che non sono mai stato d'accordo Perché invece Su me periferia È anche bello Su questa periferica Ma non necessariamente È brutta O trasandata No ma io feci un convegno Proprio con una Che diceva che A Milano esistono le periferie Perché semplicemente Tutti Le cinture urbane Toccano il centro di Milano E quindi non hanno la divisione Come può essere Roma Allora lì periferia Perché poi c'è un pezzo E poi c'è il centro Ah quindi in realtà Sei già in centro Sei già in centro Ed è vero Sì e poi soprattutto Ricolliamo sempre Spesso parliamo di Zone che prima erano comuni Prima erano borghi Quindi c'è in realtà Che hanno un loro centro Spesso volentieri Che vivono anche Una loro centralità Questa cosa dei turisti Però Te la devo un attimo Perché anche Domenica No sabato Scusa Sabato Alla festa Per i 50 anni Del bosco in città Sì da Cossalla Appunto aveva parlato Ha detto Milano I suoi 10 milioni Di turisti all'anno E tutto E un po' il mugugno Salzato dicendo Va bene Pensiamo ai 10 milioni Di turisti Ma al milione 400 mila Abitanti Incomincia a non pensarci Più troppo Soprattutto appunto In questa cintura urbana Come la chiami tu Questo tema Però sono anni Che ci mettiamo avanti Cioè le periferie Lontananza dal centro Di una città Poi abbastanza piccola Come Milano Cioè da quel punto di vista Geometricamente Non tanto grande Milano non è grande Tutto sommato Io Per lavoro Diciamo Bazzico in altre Grandi città italiane Quando torno a Milano Milano mi sembra Veramente Servita molto bene Ok E anche Le cinture urbane Della città Sono mediamente Più vivibili Delle altre periferie Di altre città Questo è un punto Sul quale Diciamo Credo che non ci siano Discussioni Anche i servizi Sono In cintura urbana Se tu prendi Il tram Prendi l'autobus Poi ci sono Dei ritardi Legati al traffico Ok Ma tutto sommato Il servizio esiste Cioè ATM Fa un servizio Diciamo pregevole Così come per esempio Lo fa AMSA Amsa è studiata Negli Stati Uniti Per la sua Sistema di raccolta Dei rifiuti Da New York Hanno detto ad AMSA Ma come fai Tu In una città Come Milano A prendere i rifiuti Porta a porta Facci capire Quindi ci sono delle eccellenze Che molto spesso Noi non promuoviamo E questo secondo me È molto sbagliato Poi ovviamente È una città Che però deve vivere Di qualcosa deve vivere È una città post-industriale Fabbriche non ce ne sono più E quindi ovviamente Lavora su altri tipi Di dimensioni Altri tipi di economia Come per esempio Il turismo Io qui rilevo E chiudo Perché non voglio farla lunga Però Che il tema Non è il turismo Sono le strutture Che molto spesso Sono in mano agli stranieri Per esempio Strutture alberghiere In Italia non abbiamo Una struttura alberghiera Io credo che Lo Stato E quindi non il Comune Deba poter incentivare Ovviamente Questi tipi di relazioni L'Italia è una città turistica Ma non avere strutture alberghiere Mi sembra veramente Uno simolo Ah chiaro Non esiste il grande gruppo Alberghiero italiano Non c'è Sono tutti gli strutturi Stranieri effettivamente Lavorerei molto di più Sul turismo Per dare anche servizi E per alleviare Le sofferenze dei cittadini Chiarissimo Andiamo con l'ultima canzone E poi torniamo qui con i saluti Sempre qua Con Sergio Mirazzi Milano Insomma Il modello Milano Mi ha parlato tanto Dai Avanti con l'ultima canzone E poi torniamo qua con i saluti Sergio Non scappare Silvester con Make You Make Me Feel Siamo qui per salutarci E quindi non posso per altro Che chiamare la nostra sigla 8 e 55 minuti Lunedì 23 settembre Siamo arrivati alla fine Di questa puntata Di oggi Di Good Morning Milano Con Sergio Meazzi Grazie a tutti Buona 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 giornata Per me sarà una bella giornata Per tutti i tifosi rossoneri Ma anche i tifosi interisti La devono prendere Con filosofia Come sempre Nel calcio nella vita Avrei voluto vedere Se al contrario Se dicevi la stessa frase Forse no Facile fare l'interista Con la maglia degli altri Comunque se volete Sapere un po' di più Su Milano Oltre ad ascoltare Good Morning Milano E Cristian Radio Seguite Sergio Meazzi Sui social Perché spesso e volentieri Fai delle belle digressioni Su cosa è la città Insomma Do una mia opinione Ci provo Opinioni Posso dire Il mondo è più di opinionisti Che opinionano su cose inutili Fortuna tu opinioni Su cose utili E dopo di noi Ambrogio Curti Con Senti Questa Come sempre 9.05 dopo il giornale radio La grande musica Raccontata dalla voce Preparatissima E competentissima Di Ambrogio Curti Grazie ancora Allora Sergio Ci sentiamo presto Molto volentieri Grazie a voi Grazie per avermi spiegato Il derby Tutte queste cose qua Di cui io Completamente È stato un vero piacere Un vero piacere Grazie Sergio Grazie Le voci che avete sentito Questa mattina Sono quelle di Silvia Gatti Sergio Meazzi E poi Fabio Ranfi In regia A Ginevra Alla redazione Al buttoni A tutto quello In questa trasmissione Beatrice Grazie mille a tutti Rimanete qui Cristal Radio Continua Ciao domani Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco Grazie a tutti Grazie a tutti